Giornata di festa a Marzocca di Senigallia per l'inaugurazione del punto Info Città e della Fontana, acqua del sindaco che fornisce gratuitamente acqua pubblica alla spina e naturalmente potabile. Un evento salutato anche dal complesso bandistico Città di Senigallia che ha anticipato il taglio del nastro richiamando l'attenzione del numeroso pubblico tra cui va sottolineata la presenza di numerose autorità da quelle parlamentari e quelle provinciali a quelle del comune di Senigallia. Presso l'ex stazione ferroviaria di Marzocca l'apertura della nuova sede di Info Città, il polo di comunicazione turistica di Senigallia a cui si affianca lo sportello di informazioni e accoglienza turistica della provincia di Ancona. L'Info Città, impreziosita da fotografie d'epoca di Marzocca e territorio realizzate da Giorgio Pegoli, allestite da Giuliano De Minicis, fornisce informazioni relative all'accoglienza, alle manifestazioni, agli eventi e alle opportunità attrattive offerte dalla città e dal suo territorio. Si può trovare materiale turistico della città, guide plurilingue, mappe insieme a informazioni su come muoversi, sull'offerta ricettiva e della ristorazione, sul servizio di bike sharing e sul servizio wireless delle comune di Senigallia. Per noi la partecipazione e il decentramento sono elementi di grande importanza per l'azione amministrativa e quindi abbiamo aperto un Info Città, un Info Point di informazione per i cittadini, per i turisti, per gli avventori di questa parte sud del territorio che possono trovare le stesse funzioni, le stesse offerte di servizi del centro storico. Dopo il taglio del nastro di Info Città, il trasferimento in Piazza Malfi dove è stata realizzata la fontana Acqua del Sindaco, un'opera a cura della ditta termoclima di Vanni Cerioni di Marzocca, azienda del settore idraulico, che coniuga l'esperienza della tradizione con le più recenti innovazioni tecnologiche volte a migliorare quanto più possibile la qualità di vita e il benessere di ognuno. E da riguardo la fontana Acqua del Sindaco risponde a questi criteri, un ritorno al passato per ristabilire un diritto universale, il diritto all'acqua. Una misura anche per limitare il consumo dell'acqua confezionata che provoca inquinamento e spreco dai trasporti alla produzione dei contenitori. Chi lo vorrà dunque avrà l'opportunità di dire addio all'acqua in bottiglie di plastica, optando per quella del distributore pubblico di Marzocca. Una fontana pubblica che va a erogare acqua naturale e gassata, che vuole essere un segnale di attenzione verso un bene che è così prezioso e che deve essere a disposizione di tutti. Quest'opera ha un duplice significato, quello di far capire a tutti che l'acqua è un bene che ci è stato donato e che comunque è limitato e quindi ne dobbiamo adoperare con cura. Anche la fontana chiaramente ha un utilizzo gratuito dell'acqua, ma è chiaro che questo dovrà essere utilizzato con molta parsimonia. La fontana eroga acqua che passa prima attraverso un prefiltro che elimina particelle e detriti in sospensione, seguito da tre filtri multistadio composti da un filtro per i detriti, uno ai carboni attivi per eliminare odori e sapori sgradevoli, uno decloratore che elimina completamente il cloro e un filtro batteriostatico che agisce su spore e batteri. Un ulteriore passaggio attraverso una lampada ultravioletti sterilizza ed evita la proliferazione di microrganismi. Infine viene refrigerata e dove occorre addizionata con anidride carbonica. L'acqua verrà quindi erogata in due modi, refrigerata e refrigerata gassata con l'aggiunta di CO2 e non contenendo più cloro va bevuta entro 48 ore. Come da disposizioni comunali l'erogazione sarà completamente gratuita in dosi da 20 centilitri, la manutenzione e la sanificazione degli erogatori sarà effettuata dalla ditta termoclima e i controlli periodici effettuati dagli enti preposti garantiranno tutti la sicurezza di un'acqua pura e quindi non solo più buona ma anche più salutare. La casetta che abbiamo qui dietro è innanzitutto un progetto di grande soddisfazione per la nostra azienda perché dopo tanto tempo che siamo stati dietro per la realizzazione di questo progetto è sicuramente un traguardo molto molto importante poter fornire acqua potabile vista l'importanza dell'acqua per ogni fisico di ogni persona. Un'acqua buona è un sintomo di star bene, è un simbolo di star bene proprio per il fisico di tutte le persone. Un ringraziamento particolare alla ditta Ramirini e CSNC che ci ha supportato e aiutato in tutte le maniere a realizzare questo progetto facendoci la struttura che secondo me anche esteticamente ha il suo valore. Va inoltre detto che la nuova fontana nasce anche per dimostrare che l'acqua di rete è buona e garantita da analisi di terzi e nella maggior parte dei casi non ha nulla da invidiare a quella in bottiglia. Ma è giusto che l'impianto di distribuzione spesso e nei luoghi non presidiati sia sicuro dal punto di vista igienico-sanitario. Le nostre frazioni sono sempre più protagoniste di un'azione politica che vuole rispondere alle esigenze di tutto il nostro territorio. Quindi con queste riqualificazioni, con queste due nuove inaugurazioni vogliamo offrire questa rete di servizi per tutti i cittadini del nostro territorio. L'intensa giornata vissuta con particolari interessi dei residenti e non solo è stata organizzata grazie alla preziosa collaborazione della ditta paltatrice della fontana, la termoclima di Vannicerioni ed ha proposto momenti di spettacolo grazie all'esibizione di poesie e brani musicali, tutti rigorosamente in tema con l'acqua, a cura della scuola Belardi di Marzocca con il preciso coordinamento della professoressa Ilaria Ramazzotti. Noi siamo un territorio che è fatto di tante peculiarità dove le frazioni sono veramente protagoniste in un sistema dove Senigallia si proietta nella regione in Italia.